Aldi giovani buonasera, mentre voi siete là fuori a vivere le vostre ore felici, a bere il vostro drink, a ballare qualche canzone latinoamericana io sto qua a casa in relax e alla fine l'ho vista, si alla fine ho visto Chelsea Villareal tramite la piattaforma Amazon Prime Video e devo dire, nonostante lo scetticismo, nonostante l'ennesimo abbonamento, sono soldi veramente ben spesi, a differenza di tanti altri a differenza di tanti, a questi ragazzi fatemelo di, e io sono uno di quelli che mi conoscete, tignoso, pignolo, fastidioso non lo nego e ve lo dico chiaramente, questi sono soldi ben spesi, ne parliamo? sì, perché poi parliamo di Chelsea Villareal, ma in realtà questa partita passa alla storia, soprattutto per l'esordio appunto di Prime Video nel calcio ne parliamo, ma prima le solite tre cose semplici, le tre cose che vanno fatte prima di guardare il video cioè lasciare un like perché tanto cosa vi costa, iscrivervi al canale perché tanto cosa vi costa e scaricare la OneFootball perché tanto cosa vi costa anche questa è gratuita e vi permette di registrare, sì, di registrare, di restare aggrappati ad ogni notizia di Calcio Mercato e ne abbiamo una ragazzi miei, ma ne parliamo domani, magari registro in nottana, ma ne parliamo domani perché già sto a caricare video a bizzef, poi giustamente dite, ma neschio, ma non ce l'hai una vita, ma neschio, ma perché? eh, lo so, ma io sto qui in relax e mi diverto, mi diverto anche così con i miei sbagli ogni tanto ma sto bene così, ma siamo qui per parlare di Chelsea Villareal, siamo qui per ritornare su Prime Video sì, partiamo da Prime Video, partiamo da l'ora e come ho detto io sono molto scettico eppure ragazzi vi dico, con 36 euro perché poi eh, essendo anche cliente, chi non lo è cliente Amazon, no? chi non lo è, con 36 euro ragazzi piano annuale ti porti a casa vantaggi incredibili su, sulle consegne appunto eh, hai accesso a comunque una libreria, uno scaffale, chiamatelo come vi pare serie tv e film e anche partite di calcio, la Champions 16, partite esclusive della della Champions League con ragazzi, con diciamo che con della qualità Piccinini in telecronica, Ambrosini, abbiamo visto la Giulia, come cavolo si chiamano perdonate, io i nomi faccio sempre fatica, ma soprattutto Sigridorff, Giulio Cesar, Zola, Marchissimo, ragazzi, mamma mia, una qualità, una qualità importante, c'è della qualità ragazzi miei e c'è nella qualità nel servizio, io l'ho scaricato tramite, l'ho visto tramite il tablet, ho scaricato l'app sulla iPad e una bomba e subito quindi il confronto, sono andato a vedere anche le varie tweet, vari aggiornamenti e ho visto che sono rimasti tutti soddisfatti il confronto con Dazon è praticamente quasi improponibile, viene Dazon stracciata proprio, Dazon stracciata, io non ho avuto veramente nessun problema, qualità alta, qualità top e niente, fantastico ragazzi miei, alla grandissima, ripeto, per uno come me, tignoso, pignolo, sgorbutico, e lo dico io, ribadisco, questi sono soldi, sono soldi ben spesi, ecco, assolutamente, e poi ogni mercoledì una partita di Champions di livello e di prestigio raccontata da i volti che vi ho mostrato poc'anzi, tanta roba ragazzi, tanta roba fatta in melodia, almeno ad oggi tanta roba, cioè, vi ricordate l'esordio di Dazon? Dimenticatelo, ve lo ricordate? Dimenticatelo. Parliamo un po' della partita perché se ti metti che cavolo e che diamine, c'è il Sevilla Real, una partita che è passata in secondo piano proprio per questi motivi qua, una partita che poi si è giocata, una partita piena di incognite, fatemelo dire, le classiche incognite pre-stagionale, no, perché poi se vogliamo infortuni, anche il Villareal tra Covid e quant'altro, chi rientrava dall'impegno dell'europeo, e quindi lasciatemi dire che ovviamente queste partite vanno giudicate, vanno giudicate, sì, non prendendoci troppo sul serio, nel senso non definendo una squadra per la partita in sé, perché, basta pensare che il Chelsea è entrato in campo inizialmente senza Jorginho, senza Diego Silva, senza Mount, senza Spilequeta, aiutatemi a dire, senza Pulisic, aiutatemi, aiutatemi perché ancora non è finito, comunque, un Chelsea che sicuramente non era completo, un Chelsea che comunque secondo me ha preso subito il pallino del giocaggio, ha proposto subito, è passato anche in vantaggio, e poi invece in realtà è venuto fuori un Villareal che per gran parte della gara a me è piaciuto, a me è piaciuto per grinta, per cuore, per voglia, per dedizione, per come si è voluto imporre e come ha contrastato l'avversario, e ho visto delle giocate, ho visto tante occasioni da gol da parte del Villareal, Villareal, sì, gioco, possesso, e neanche tanto predominio territoriale da parte del Chelsea, ma c'è stata una sua priorità da quel punto di vista, però, per quanto riguarda le occasioni, il Villareal, ragazzi miei, ne ha avuto almeno tre o quattro nitide, 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 tra cui vantano due legni, da un Moreno all'altro, e fatemi parlare di Gerard Moreno che secondo me non abbiamo apprezzato appieno nello scacchiere di Luis Enrique, e fatemi dire che un giocatore del genere comunque che ha segnato l'anno scorso 30 gol nella Liga Spagnola, è un giocatore che entra nella storia del Villareal, mi sembra che supera anche Pepito Rossi, diventa il bomber assoluto del club, è un giocatore che è trascinatore tecnico e del leader indiscusso della squadra, a me è piaciuto, ragazzi, Gerard Moreno a dialogare, anche Visione, attaccante mi è sembrato un attaccante totale stasera, uno di quegli attaccanti che fa piacere averli in squadra, e come ho detto, se si è segnato così tanto, un motivo ci sarà pure, e stasera l'ho apprezzato davvero tanto, l'ho apprezzato davvero tanto, ma ripeto, ho apprezzato il Villareal per come ha reagito al gol subito, per come poi ha fatto la sua gara, e stranamente quando ha trovato il pareggio, nonostante già comunque il Chelsea avesse cambiato molte pedine, e poi invece si è ribaltato tutto, poi è ritornato il Chelsea nel finale di gara, e nei supplementari ha avuto nuovamente il predominio, ha avuto nuovamente il palleggio, e ci ha provato e si vedeva che ne aveva di più, quindi non saprei, non so se da un punto di vista fisico, da un punto di vista mentale, o da un punto di vista tattico, le cose sono cambiate, si sono evolute nei 120 minuti, abbiamo visto più partite nella partita, e la partita finale si è giocata poi in realtà ai rigori, è onore comunque al Villareale che ha trascinato questo Chelsea, campione d'Europa, l'ha trascinato ai rigori, e del Chelsea tanti nomi, ne potrei fare appunto tantissimi, Giorginio che poi entra e fa nuovamente, diciamo, il professore in mezzo a campo, va a tirare il rigore, il passettino la mette dentro, e mi va, mi piace il nomina Giorginio, ragazzi miei, che poi è stato il nostro trascinatore, è stato il fautore, uno dei tanti, che ha fatto sì che noi vincessimo l'Europeo, però voglio parlare di Marcos Alonso, perché è un nome che poi spesso e volentieri viene associato ai club italiani, viene associato soprattutto nelle fatte speciale all'Inter, e a me è piaciuto stasera per esempio Alonso, lì sulla sinistra, appunto ha giocato tutta la gara, e ha fatto bene nei 120 minuti, poi ditemi voi qualche altro nome se volete, e che dire, i rigori, dicevo appunto i rigori, e si è giocato l'asso Tuchel, Tuchel che ha potuto cambiare, ribadisco il Chelsea, una potenza di fuoco incredibile, basti pensare che è vero che inizialmente erano fuori tanti giocatori, poi ha potuto inserire, ragazzi, Pulisic appunto per Ziyech, che sfortunato si è fatto male alla spalla, Giorginio, Mount, Christensen, Aspiliqueta, stiamo parlando di giocatori veramente di livello eccelso, ha potuto quindi cambiare, e l'ho fatto anche bene, ha cambiato anche il portiere, ha messo Kepa, e Kepa ha parato due rigori, quindi scelte che premiano, e complimenti, mi è piaciuta l'inquadratura dei rigori, che non è sicuramente nuova, però stile PlayStation, bello, diretto, è godibile vedersi i rigori in questo modo, rigori che per molti rappresentano una lotteria, per altri rappresentano invece una sfida tecnica, chi invece ne parla come di una sfida mentale, io, per me, sono tanto spettacolo, mi diverte, mi diverte, complimenti al Chelsea, ma complimenti anche, e direi anche soprattutto, a Unai Emery, al suo Villarreal, che comunque è una squadra, che secondo me, si è giocata alla sfida, e se l'è giocata alla grandissima, va bene? Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, likeate se volete, iscrivetevi al canale, grande abbraccio, Daneschi, buonanotte, Grazie a tutti,